Giugno 2019 è il mese del cavallo a Palermo, grazie alla straordinaria iniziativa della Federazione Interna della Sporte Queste, il suo commissario regionale Landi, il comitato organizzatore, che hanno proposto tre fini settimane con centinaia e centinaia di cavalli per un'attività che al tempo stesso è agonistica ma anche di divulgazione e di conoscenza del cavallo e del mondo che gira attorno al cavallo in termini sociali, culturali ed anche sportivi, nello splendido impianto della struttura equestre della Favorita, nello splendido parco della Favorita, grazie all'impegno dell'Aria Verde, grazie all'impegno anche dei lavoratori del Comune e dei lavoratori detenuti che in un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale hanno realizzato un rifacimento, un restyling di questo splendido impianto così come si è fatto anche a Piazza di Siena a Roma. Credo che i due impianti e questi più belli d'Italia sono Piazza di Siena la Favorita e di questo non posso che essere orgoglioso. Dalla parte è grato alla federazione per questa iniziativa. L'evento Favorita a cavallo si è già nell'intero mese di giugno, avremo tre fine settimane, settimane del 8-9 giugno con un progetto sport relativo ai giovani cavalieri, la settimana del 13, 14, 15 e 16 giugno i campionati regionali dal tostacolo dell'evento più importante della regione Sicilia e per ultimo una qualificazione alla finale dei campionati del mondo giovani cavalli 28, 29 e 30 giugno dove participeranno non solo i cavalieri siciliani ma anche i cavalieri che verranno dall'intera Italia. Diciamo che questo mese di giugno Favorita a cavallo viene patrocinato sia dal Comune di Palermo che dall'Ars perché credono molto nella rivalutazione del Parco della Favorita. Grazie al Comune di Palermo per questo mese alla Favorita, è veramente un'occasione importante per noi della federazione essere qui a Palermo in questo mese, abbiamo tenuto tanto a che la federazione in questo mese fosse presente massivamente alla Favorita che devo dire è un impianto veramente eccezionale. Per me che sono stato la prima volta in questo impianto sono rimasto colpito in modo positivo. È un impianto che insieme a Piazza di Siena rappresenta secondo me l'eccellenza in Italia in un complesso stupendo nel quale fare sport, fare guidazione, creare le giuste sinergie tra Comune e Federazione. Insomma veramente un mese particolare, un mese importante per la Federazione, per il Comune e per Palermo.